Finalmente siamo stati ascoltati. Esprimono così la loro soddisfazione i sindacati del trasporto pubblico che nelle ultime settimane avevano alzato la voce contro le aggressioni sempre più frequenti ai danni degli autisti di arriva a Udine. Nel corso dell'ultimo comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato proprio per verificare lo stato di attuazione delle misure di sicurezza a bordo degli autobus, il prefetto Domenico Lione ha stabilito il crono programma che migliorerà le condizioni di lavoro di chi guida. Entro la fine di ottobre sarà istituito un collegamento punto punto tra la sala operativa di arriva a Udine e quella della Questura e dovranno essere definiti dall'azienda i corsi di formazione del personale che verranno tenuti dai funzionari della Questura. Entro sei mesi invece andrà definito un programma operativo per aumentare le telecamere sui mezzi e verificata anche la possibilità di aumentare il numero dei bus con pannelli divisori a tutela del conducente. Insomma telecamere, collegamenti diretti con la polizia, protezioni fisiche e corsi per gestire le situazioni allarmanti dentro i mezzi, ovvero quello che chiedevano i lavoratori da mesi. CGL e sindacato Orsa di Udine ringraziano il prefetto perché il suo intervento, dicono, è la risposta migliore allo sciopero degli scorsi giorni.